Una saccatura nord-atlantica sulle isole britanniche muove verso Levante, favorendo l'approfondimento di un minimo al suolo sul Ligure, associato a correnti di scirocco sulle regioni tirreniche della nostra penisola. La presenza di era fredda in quota determina condizioni di marcata instabilità atmosferica. In Toscana lunedì 6 novembre nuvolosità variabile, con possibilità di pioggia in Appennino e nel pomeriggio anche sulla Valle dell'Arlo. Tendenza a peggioramento in serata, con precipitazioni sparse sulle zone interne, nevose oltre 1200-1300 metri sull'Appennino tosco-emiliano. Venti inizialmente moderati meridionali, in rotazione a est-nord-est nel corso del pomeriggio. Mari molto mossi o localmente agitate a nord dell'elba. Temperature in ulteriore diminuzione, specie nei valori massimi in montagna. Pioggia alternata a schiarite sul territorio provinciale. A Lucca nella Piana temperatura minima 8, massima 16 gradi. A Castelnove zone montane minima 5, massima 7, a Viareggio e sul litorale minima 10, massima 18 gradi.